accordi pensi di averci la pistola poi c'è la torcia allora non gli ho dato nessun proiettile a questo no perchè non le vuole eh sto faccia di cazzo ragazzi sto faccia di cazzo ma ha grabato quattro volte alla fine quattro volte la mano roby ciao sono al boss dove sei? non ti vedo dove avete visto? mirato mirato si mirato va bene eccola qua alla mano lo vedo quando mette la testa la testa non lo vedo quando la mette giù non la vedo quando la mette giù non ho capito non ho capito si ecco il grab io l'ho preso quattro volte prima era prima prima era prima e ora capita che ti ammazza la vera con quattro grab inizia il gioco ora con quattro grab inizia il gioco ora e ti ammazza cioè con quattro grab tutti inevitabili e la camera era un problema ma la camera ma era un problema ma fa livelletto vai la camera era un problema però se lo gioavi mirato vedevi il tutto vedevi leonze